Allora, ciao a tutti ragazzi, sono Ed e benvenuti in questo nuovissimo video, sono qua con Ale che in questo momento è mutato perché canta, perciò adesso lo rismuterò quando finirò l'introduzione Ed ecco, sentite il ritardato Vabbè, eh Qua, perché? Oddio, ah no, ok, niente Andiamo nella 2 Io vado su Io vado su E io pingo 703 Eh ok, tu stai adagando ticemail, vai nella 2 per favore Io sto andando piuttosto benico, cioè, è normale Io quello che non capisco è perché di FPS sto facendo così male Vabbè, non ho visto Minchia, magari fosse le FPS il problema Che palle foste di merda, cristo Cioè, un anno va bene, poi proprio bo Non si accorgono manco che gli stai pagando l'abbonamento Cioè, amici amici e poi altrimenti mi piace No Non era un po' così Cioè, io ho due Io vado sotto a quella casa strana Che c'è un mercato di babbo natale Dai, 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 dai Forza, forza C'è già uno? No Cosa? Dove cazzo è la La cesta? Oh Beh, non sei messo male No Però non Non trovo la cesta Dentro c'è una T1, però Fuori c'erano una T2 di solito L'hanno tolta Probabile perché tipo Ritorno tu come un business E tu questo vai stai mangiando? Sì Ma vai alla grotta Sai che potrei fare tipo un lavoro Utile per la società E al posto che lasciarmi Il Quello Talk Qualcosa Potrei mettere Lol to talk Push to talk Così non senti mentre scrivo quella tastiera Ma non ti preoccupare Non è un problema scrivi qua L'importante è che non canti Perché Oh, attento dietro Eh, li vedo Guardali che sono in tre porca puttana Nemmeno nel Biafra sono messi così male Non riesco... Guarda, sono ritardati cronici tipo Ma come tu... Cosa? Ma è stupido Cioè non si è messa proprio così Non è che dici Non si è messa perché sta facendo una challenge No, non si è messa proprio Ma cosa vuoi fare sto qua? Ma muori Boh, torna dentro Prendi... Le cose belle La mia ragazza è strana C'è la mano puttana Mega scrotto Mo li incontriamo pure nella prossima lobby Venga scrotto lo stiamo incontrando da... Oddio ma c'è qualcuno dentro X, Luke, K Che cazzo Occhio, occhio che... Occhio che downgrade Occhio che... Occhio che... Occhio che... Occhio che... Occhio che c'è... Ma arriva uno che non c'è niente Ah ma... Ah ma è sempre quello di prima Proprio... Ma non... Ma non sai lo spadare... Ma c'è... Si, proprio lui viene a... A wave No, tu vai a prendere le tue dentro Io non... Non credo di aver... No, lei ha già preso questo... Death boy Oh, what's up? Here come Death boy Oh, what's up? Oh shit, what's up? Dai... Mi... No, mi sono buggato nel... Nel blocco, ho perso tempo Che teammate inutile che sei cazzo Perchè? Perchè? Ma te la leggo, ma te la leggo Vabbè che non rende... Anzi no Te la passo E dato che tu hai voglia di editare video La metti sovraimpressione Eh, ok Con una musichetta di sottofondo Tipo quella dei call center Dei... Dei supermercati dove vendono cibo E questo lo farai eh Perchè ormai l'ho detto Eh... Si, ok, basta che me la passi però Eh ma adesso non ti preoccupare Poi me la passi No, no, lo fai, lo fai E ci sta benissimo Ce l'hai un diamante? No Cristo che è inutile cazzo Ma perchè non ti suicidi al posto che registrare Madonna Ma secondo me... Ma secondo me dentro la... La grotta non c'è veramente... Dica Cioè non... Non hanno preso tutti i due Dica Perchè ci sono delle cose... Secondo me si No, perchè ci sono delle cose che... Nascoste Dica, come? Non capisco Non la sento bene Lei si sente bene? Tipo questa dovrebbe essere una trappa Cosa non vuole fare della... Della propria vita? Tenga Le serve anche se non le serve lo prenda Perchè è un regalo da parte mia La prego Di più cane Non se ne privi Eh no, brucia tutto per favore Qua c'è tipo... No, tenga 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 Lo raccolga L'ho ritrovato con le mie manine Cosa bisognava fare? Devi mettere un blocco Ritardato di merda O un qualsiasi drop O forse più di uno Ah esatto Poi ritrovato sono io mi raccomando Eh... Almeno non ci provo Faccia la culo Esatto Vabbè Tu lo conosci Ultrale ma Si era... Faccia la vacca man Bruci me un po' di roba per favore Se vuoi raccoglierci... Lo vedi che si fai Madonna Ma non è che se lo conosco lo seguo Non lo seguo No ok basta Beh anche perchè mi sto più facendo video da 3 anni E mezzo Più un giorno Più un altro secondo Più un altro secondo Più altri due secondi Più un altro secondo Per esempio questo coglione Un altro secondo 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 in cui lui non pubblica video Sto ripiangendo Ducker Te lo dico E ci sta tantissimo Brucia qualcosa Metti un... Un fire Dai Mi dà fastidio avere la roba Sei tu quello che dice nella Germania Io sinceramente mi limito a scopare pecore Se tu... Se ti può tornare utile Ci sono poi Per il resto Procediamo Cosa vuol dire? Non ho capito sta cosa Ma è tipo i lager nazisti Ne hai battuta coi lager Battute sui lager Ok Bravi Black humor eh Ti segnalo Eh Eh Io farei il fai Tipo te su facebook Faccia di merda No vai allo spawn Su facebook mi buttano Mi sai che si stanno insegnando Fermo fermo Ale Fermo che arrivo Fammi arrivare Non fare cazzate Non fare cazzate Veramente Cioè non Non andare Non fare l'eroe che non lo sei Non devi essere Ma tu ti sarti sono l'eroe Registro io Mi sono rotti i coglioni Io abbasso la render Ah ma sono con la render Distance extreme Sì ma sbrigati Porca puttana Sono anche un po' un pezzo di merda Però Cioè voglio killare qualcuno E vincerla in questa partita E ma io sono anche un po' pezzo di merda Perché Perché ho messo la render Distance extreme Non ci credo Oh my god Ok Che un pochino free Sono Oh shit Ed viene lo spawn E sei un idiota E fatelo dire Sei un idiota completo Adesso arrivo Completo No solo bikini Topless Adesso arrivo Io ti ho detto stai fermo Arrivo io stai tranquillo No lui deve andare Deve fare l'eroe No non andare lo spawn Mentre vieni verso lo spawn Gira a destra Anzi no ve lo spawn Ve lo spawn Ve lo spawn diretto Direct Instant Ora Now In this moment Eeeh Subito Ora Eeeh Subito Eccoti qua No ho visto qualcuno Ti stai seguendo Ecco se non te ne devi attaccare Perfetto Che mossa di merda Su Uka GG GG Oh ma sai che Gli abbiamo fatto un'imboscata da madonna Come hai detto Gli abbiamo fatto un'imboscata da madonna Perché non se ne sono accorti Eh godo No mi hai preso la 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 chestplate di OER Suka Team Sì sì Sicuramente in tre facciamo team con te Perché abbiamo voi Tra l'altro erano due Erano due donor Godo Perché è buono Godo Eh sono loro che rendono migliori i server Inutile Parassita Della società Questo Oddio ma oh è qua è qua Ale 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 Oh merda Anche io ho pochi cuori Cristo mi sa che citta Citta Si citta Citta malissimo Scappa 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 per nel deathmatch Facciamo i bastardi Tanto non è Tanto non è Un pochino citta mi sa Non capisco No sta anche laggando tu Che io vedi We are recording Si che citta madonna Madonna brusca Madonna bruschetta Allora fermo un attimo che ho Ho cinque frecce Potrei Levati 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 Sì andiamo bastardo Non so se stai citando ma Sì sì citta Vabbè Ale ale Ti chiedo non è vero No Cosa facciamo No Dai facciamo un deathmatch tipo Sì però Allora È il metto in oro Spada in pietra Vabbè E senza Senza armatura no Oppure anche Un ferro Solo ermetto in oro e spadino Eh ma foglio d'oro Ermetto Ma sai anche fishing road Io non c'ho cosi No niente solo spada in pietra Ok Allora un attimo fammi mangiare Ah ce l'ha già Il cibo va bene Eh dammi del cibo dammi del cibo Chi non ce l'ho Non ho detto un cibo Dai partiamo Aspetta Allora facciamo così Facciamo render di San Stein così proprio Cioè Delle volte fai dei free io non capisco Ok Ah è la 1.8 No no la 1.7 Mi sembra Perfetto No la 1.8 Non lo so forse la 1.8 No perché se stavi giocando in gomme quindi Aspetta Ok andiamo Vai Eh cazzo mi hai preso due volte Ops Ops GG 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 No 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 è bellissimo Ti mancava una spadata Hai canato 25 volte No non è vero È che tu eri low ground Quindi mi hai preso Ti hai dato precedenza a te il server Perché La questione meridionale Ok aiutiamo di armi No ok così Allora 24 su 305 Che schifo Una su 15 No beh di meno Una su 12 13 15 su 229 Eh no sei messo meglio tu Vabbè allora ci vediamo al prossimo video Eh buono perché ho video da registrare Ciao a tutti Allora Un Grazie Grazie a tutti.